E anche oggi è con noi Bruno Aragno, portavoce dei fedelissimi a Cicuneo 1905. Ciao Bruno, ben ritrovato. Ciao a tutti. Oggi parliamo di ben due appuntamenti che sono avvenuti in settimana, il primo quello di mercoledì, quando la Cicuneo è andata in trasferta. Raccontaci qualcosa. Sì, mercoledì è stata veramente una delle migliori partite del Cicuneo perché si è vinto 3-0, una partita ben giocata, giocando di rimessa e facendo anche dei bei gol. Diciamo che è stata una grande boccata d'aria perché il Ponte d'Era era il momento buono e si è voluto portare via i tre appunti. E poi insomma la partita di ieri invece in casa, un pareggio. E diciamo che ieri è stata una partita veramente difficile perché dopo gli 8 minuti eravamo già in 10 uomini e un rigore contro. 1-0 per loro, poi nel secondo tempo c'è un rigore invece per noi sbagliato. E poi l'ottantesimo una bellissima punizione di Pellini, un po' la Pirlo di Chi Tempi e abbiamo pareggiato che tutto sommato giocando in 10 contro 11 è stato un gran bel risultato. Sì, se si considera appunto la mancanza di un giocatore, un pareggio è accettabile. Bene, direi che questa settimana comunque le cose sono andate decisamente meglio e l'augurio è quello di proseguire su questi passi. Io ti do appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana vorremmo due trastardi di tira. Giocheremo prima ad Arezzo e poi a Viterbo. In trastarda di solito andiamo sempre meglio, perciò speriamo di portare a casa ancora qualche punto. Col fatto che le trasferte portano bene ci sentiamo la prossima settimana. A presto. Grazie e buona giornata.